Congelati rapporti finanziari per un valore complessivo di oltre 740.000 euro, un fabbricato situato nel comune di Carmiano e due autovetture di grossa cilindrata invece sono state sequestrate. Questi gli esiti dell'attività svolta nella mattinata di sabato dai carabinieri della compagnia di Campi Salentina. Nel corso dell'esecuzione del decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, nei confronti di alcuni dei 37 soggetti arrestati lo scorso 6 novembre da appartenenti al sodalizio mafioso retto dal boss Fernando Nocera, che avrebbe fatto del narcotraffico terreno ineludibile di finanziamento della frangia criminale. Nello specifico alcuni sodali avrebbero fatto dello spaccio di sostanze stupefacenti la loro attività professionale, talmente remunerativa da permettere agli stessi un presunto elevato tenore di vita a dispetto della carenza di una stabile occupazione lavorativa. Queste quindi le motivazioni della misura cautelare che dimostra ancora una volta l'efficacia delle indagini svolte dalla DDA di Lecce.